La morte di un tiktoker, il dolore della famiglia e l'indifferenza dei social. Il mondo continua a girare, anche quando una persona muore. La notizia si diffonde, le persone si commuovono, ma poi la vita riprende il suo corso. Questo è quello che è successo a Napoli, dove la morte del tiktoker Lorenzo Della Femine, conosciuto come Mr. Pella Pazzo, ha sconvolto la città. Della Femine è morto all'improvviso, a soli 40 anni, a causa di un malore. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, e in breve tempo centinaia di persone si sono riversate davanti alla clinica dove il tiktoker era ricoverato. Molti di questi erano fan di Della Femine, che seguivano i suoi video su TikTok, altri erano semplicemente curiosi di vedere cosa stava succedendo. Ma c'erano anche quelli che hanno approfittato della situazione per fare soldi, vendendo gadget e magliette con la faccia del tiktoker. La famiglia di Della Femine è stata costretta a chiedere pubblicamente di rispettare il loro dolore. Vi chiediamo di darci un po' di pace, ha scritto la moglie Susi in un post su Facebook. Lorenzo non era un personaggio pubblico, era un marito e un padre. La morte di Della Femine è un triste esempio di come i social media possono essere utilizzati in modo negativo. In un momento di dolore e lutto, la famiglia di una persona dovrebbe essere lasciata in pace. Ma invece, è stata costretta a subire l'intrusione di centinaia di persone, alcune delle quali solo interessate a fare soldi. È importante ricordare che la morte è una cosa seria. Non è un evento da spettacolarizzare o da sfruttare. È un momento di dolore per chi resta, e dovrebbe essere rispettato. I consigli per rispettare il lutto di una famiglia. Se una persona cara a voi muore, ecco alcuni consigli per rispettare il lutto della sua famiglia. Offrite il vostro sostegno, ma non siate invadenti. Non chiedete dettagli sulla morte, a meno che non vi vengano offerti. Evitate di parlare della morte in modo frivolo o superficiale. Rispettate la privacy della famiglia. Se vedete che una famiglia sta soffrendo per la morte di una persona cara, evitate di fare video o di scattare foto. Il dolore è una cosa privata, e non dovrebbe essere messo in mostra.